Stretta sulla Movida e dalla circolazione, maggiori precauzioni e restrizioni rivolte alle attività consentite dal DPCM, scuole superiori con ingressi scaglionati per decongestionare i bus ogni mattina pieni di studenti. Sono solo alcuni dei probabili punti trapelati dalla conferenza stampa tenuta dall'assessore alla sanità Filippo Saltamartini nella giornata di ieri. Questa mattina abbiamo sentito i pareri dei fanesi a riguardo. Credo che le restrizioni non dovrebbero essere molto rigide, anche perché la popolazione fanese è abbastanza fatta da persone anziane e questo stato di coprifuoco sicuramente darebbe molta depressione alla gente, anche alle persone come me, che non sono anziana ma comunque avendo 67 anni, il chiudermi in casa è veramente triste. Ripeto, anche perché siamo abbastanza rispettosi delle regole, mascherina e quanto, distanziamento. Quindi io penso che non debbano essere molto severi. Se la firmano evidentemente avranno motivo per farlo, speriamo che sia proporzionata alla gravità della situazione sanitaria. Chiaramente le attività economiche e la vita in generale ne sta risentendo tanto. Questo è chiaro già da una settimana che vediamo che la gente in giro sta calando e i negozi andranno sempre più in difficoltà. Le positività di questa distrittiva che facciano bene alla gente a farglielo capire però, perché secondo me è la gente che dovrebbe capire di più, di stare attento. I settori che riguardano i giovani sono quelli che spaventano di più i fanesi, che sperano che le restrizioni della nuova ordinanza siano fatte per limitare gli assembramenti e gli spostamenti dei ragazzi, considerati una mina vagante sia a causa della scuola che a causa dei trasporti, che per le poche attenzioni poste quando sono in compagnia dei propri amici. Gli spostamenti, soprattutto gli spostamenti. Poi tutti i ragazzi che prendono il pullman, quelli che escono da scuola senza mascherina, mascherina dentro la scuola, niente fuori. Sono tutti momenti a rischio e quindi il contagio lo possiamo avere in ogni momento, anche se vai a prendere un cappuccino. Si devono adattare un po' tutti a qualche sacrificio. I settori sono quelli giovanili, non rispettano perché io, verso l'una, ci sono dei ragazzi che escono da un istituto professionale, come pecoroni, tutti senza mascherina. La scuola è fondamentale che vada avanti, secondo me, magari con delle precauzioni, ma deve andare avanti. La movida è chiaramente un altro discorso, tutti rinunciamo e magari anche i ragazzi possono darsi un po' una regolata. Abbiamo visto il sabato scorso, anche quello prima, obiettivamente la sera c'erano tanti ragazzi in giro, anche se va detto che molti hanno la mascherina, hanno le loro precauzioni, però visto che i contatti sociali vanno un po' ridotti, magari una regolatina anche loro se la potrebbero dare.